il nemico ha preso un ostaggio e ha dato a uno dei suoi membri una cintura esplosiva il primo proiettile dovrebbe neutralizzare il bombarolo eliminare il bersaglio a vista glas ha un fucile di precisione corto o ts 03 con mirino e silenziatore che gli permette di eliminare i bersagli dalla lunga e dalla corta distanza dopo aver preso l'ostaggio i fumogeni possono fornire copertura visiva mentre vi muovete tra edifici e container verso il punto di estrazione a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.